Il 25 di novembre, vi parlo della questione migranti, si terrà una riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea e sul tavolo ci sarà proprio soprattutto come gestire la questione della redistribuzione dei carichi umani che arrivano soprattutto nella parte meridionale d'Europa. Ci informa Simona Vasta. Alla fine il consiglio straordinario su migranti dei ministri degli interni della UE si farà. È stato fissato al prossimo 25 novembre anticipando dunque quello ordinario previsto per l'8 dicembre il tutto mentre già dall'esecutivo italiano si parla di piena convergenza per iniziative comuni al fine di governare i flussi migratori. Secondo il Viminale che rilancia le parole via Twitter è infatti questa la sintesi dell'incontro tra Matteo Piantedosi e la tedesca Nancy Feser a Dalville in Germania. Una bilaterale a margine del G7 degli interni che partiva con l'assicurazione della Commissione Europea agli affari interni Ilva Johansson di sostegno comune dell'Europa sulla gestione dei migranti. Un piano d'azione che prevede accordo politico su ricollocamenti e gestione trasparente e regolamentata dei salvataggi in mare. Intanto trapella che Piantedosi ha rassicurato la Germania di volersi attenere alle regole europee senza procedere da sola sui migranti con Berlino che ribadisce nuovamente di voler tenere fede al meccanismo di solidarietà. Entrambi i ministri hanno poi sottolineato che i rimpatri devono essere più efficienti interesse che Germania ed Italia sembrano dunque condividere parlando anche di una più stretta cooperazione con i paesi africani mentre la diplomazia tedesca punta a ricucire lo strappo Italia-Francia per poter agire su un nodo così divisivo attraverso una linea comune. Sullo sfondo restano comunque le pesanti critiche rivolte a Piantedosi e governo italiano non solo dall'opposizione ma anche dalla CEI con i viscovi che ricordano al Viminale come la chiusura verso migranti e rifugiati non sia un'azione efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo una emergenza. Simona Vasta, SkyTG24